Ciao a tutti, ciao, e qui ci siamo per adesso. Si sente? Si sente bene? Grazie. Ve lo chiedo una terza volta, se si sente, fino in fondo. Insomma, parlo un pochino più forte, perché la mia vita è cambiata a maggio di quest'anno, perché ho parlato all'Università di Palermo per un'ora e mezzo, e finito è arrivato il professore e ha detto bravo, bravissimo, però non si sentiva nulla. E io ho detto, ma me lo potevate dire? Però era partito, ci dispiaceva. E io, siccome da quella sera ogni tanto mi sogno di notte quelle facce, come le vostre davanti a me, che annuivano in maniera consona a quello che dicevo, e quindi sorridevano quando dovevano, stavano attenti, e io non me lo posso dimenticare, queste persone che fingevano per pietà di sentirmi per un'ora e mezzo, e allora ve lo chiedo un'ultima volta se si sente, se si sente, sono tranquillo. Si sente davvero? Veni, anche in fondo, veni. Allora, quando dal festival mi hanno chiesto cosa mi serviva come strumentazione, la mia risposta è sempre nulla se c'è un mobile per la televisione, però non c'è mai e ormai non lo chiedo nemmeno più. Il mobile per la televisione servirebbe, voi pensate, io adesso sono qua in piedi, ma in teoria sono seduto su un mobile della televisione, che è un oggetto che non esiste più. Voi vi ricordate le televisioni? Sembra passato un milione di anni, no? La televisione era la nostra nemica, si tenevano, ormai mio amico ha un figlio di otto anni che sta attaccato all'iPad tutto il tempo a vedere le canzoncine su YouTube e lui mi dice, sono preoccupato, non mi guarda mai la televisione, siamo arrivati al punto in cui la televisione da grande demone da tenere lontano è, mio figlio non mi voglio mantare ma guarda un sacco di televisione, non succede più. E così come è cambiato quello è cambiata il mobilio della televisione, perché mia nonna, la televisione era gigantesca quando c'era il tubo catodico e di solito la sera, non so se lo facevate anche voi, mia nonna metteva alla fine della serata un centrino gigantesco sopra la televisione a coprirla e col tempo ho capito che era forse per la polvere, ma io pensavo fosse perché altrimenti nottetempo lo spirito dei personaggi televisivi Mike Buongiorno, Pippo Baudo sarebbe uscito e sarebbe venuto a farmi del male in camera e quindi metteva questa specie di gabbia agli spiriti della televisione. Però se vi ricordate la televisione aveva una dimensione diversa, molto più grossa, molto più spessa e questa idea mi è venuta tempo fa quando ero a Venezia, c'era un signore che vendeva le gondole, quelle piccole gondoline che erano quelle che stavano sopra la televisione. Adesso con le televisioni ultra piatte HD che ci sono, mi è venuta questa idea fulgorante, l'ho guardato, faccio scusi ma con le televisioni di oggi mi fa, non mi dica nulla, siamo rovinati, chi vende gondole, piccole torri di Pisa, mini cose, non c'è più mercato perché ora sulla televisione non puoi più mettere niente, è piccolissimo, comunque questa è una divagazione. Voi vi dovete immaginare seduto sul mobile della televisione perché quando avevo sei anni noi ci riunivamo la sera a casa di mia nonna. Io sono nato in una via a fondo chiuso dove tutto il terreno era della mia famiglia e col tempo in maniera più o meno legale i miei zii che erano i fratelli di mio nonno si erano costruiti ognuno una sua casetta e quindi tutta questa via a fondo chiuso era il nostro villaggio, il cognome della mia mamma era Mancini e all'inizio della via c'era un cartello fatto a mano da noi con scritto benvenuti a villaggio Mancini, vietato entrare, che è un segnale doppio e a casa, in questo villaggio c'erano tutti i miei zii ma non erano i miei zii, erano i fratelli di mio nonno, mio nonno aveva undici fratelli tutti maschi, tutti scapoli, non si sono sposati mai. Io sono cresciuto insieme al mio zio Aldo che mi diceva quando sarai grande ti diranno che se vai a vivere con una donna è bello solo i primi periodi, i primi mesi è un idillio, poi dopo diventa brutto, non ci credere, non è vero, nemmeno quei mesi stai bene, stai sempre male e il lavoro era quello. Ora tutti questi scapoli, l'unico che si era sposato era mio nonno, vero, e quindi lui aveva una moglie e lei faceva da mangiare per tutti e ci riunivamo tutti a casa della mia nonna e guardavamo la televisione da lei. La televisione però si era rotta, era una televisione prodotta in Unione Sovietica perché tutta la mia famiglia era molto comunista e tutti gli oggetti, la tecnologia doveva venire dall'Unione Sovietica o comunque da oltre cortina perché era qualitativamente migliore in quanto più pesante. Mi facevano, senti come pesa questa televisione, senti come pesa questo tostapane, questa è roba seria. E la marca era in cirillico, io pensavo fosse un disegno, era una marca in cirillico. Un giorno guardiamo il giro d'Italia, voi pensate a questi undici scapoli di una certa età e io tutti daltonici e guardavamo il giro d'Italia e litigavamo perché mio zio Aldo diceva guarda la maglia rosa che scatta e quell'altro fa no la maglia rosa è in difficoltà in fondo, no è quella, è quella. Arrivava mia nonna che batteva sul vetro e diceva questa qui e se ne riandava, te l'avevo detto. Un giorno la televisione comincia a ondeggiare e il mio zio Atos ha l'unica tecnica per aggiustare i mezzi tecnologici che fanno degli scherzi, cioè un cazzotto fortissimo sopra. Ma ci penso io, vai Atos, una botta, la televisione fa un fumo strano di tipo Chernobyl per rimanere in ambiente sovietico e la televisione muore e il pezzo di ricambio deve arrivare dall'unione sovietica e noi rimaniamo senza televisione per un anno. Una sera eravamo lì e cenavamo da mia nonna senza la televisione accesa. Noi abbiamo, e ancora oggi, io ceno e pranzo con la televisione accesa. Ci sono, scusate se divago, ma io sono cresciuto con gli anziani e divago come loro, vivo di Dio. E l'idea della televisione a cena per me è fondamentale. Io detesto i nuovi ristoranti dei cuochi stellati, Cracco, tutte queste. Io rimpiango un'epoca meravigliosa dove i cuochi stavano in cucina e non davano fastidio e dove il cibo era cibo, non era un modo loro per farti capire il loro modo di essere, no? Che a me non me ne frega nulla. E questo cibo esprime perfettamente il mio modo di sentire. Ma io non sono venuto per lei, non mi interessa, sono venuto per cenare. Il mio sogno, mi è capitato, io sono di forte rimarmi, mi è capitato ad andare a un ristorante dove mi hanno portato il menù delle acque. Bottiglie d'acqua a 30 euro, 40 euro l'una, fatte con i ghiacciai della Finlandia squagliati e messi in bottiglia. Nel mio ristorante ideale il menù perfetto ha il menù delle televisioni. Cioè cosa vuoi una cena con Canale 5? Ma sì, c'è Paperissima, guardiamo. Oppure il Rai 1. Per me il ristorante ideale avrebbe una televisione davanti. Quindi figuratevi, a casa mia, la televisione rotta per un anno, eravamo in crisi. Tutta questa direzione per iniziare ora con mia nonna che quella sera, siccome era l'anniversario di matrimonio di mia nonna con mio nonno e mio nonno era morto, era molto triste, lei in questo silenzio che la uccideva mi ha preso di peso a sei anni, mi ha messo sul mobile della televisione orribilmente vuoto e mi ha detto vai, raccontaci una storia. Stasera la televisione nostra sei te. E io dico ma le storie non ne so, cosa vi racconto, non so nulla. Dai, dai, raccontaci una storia della nostra famiglia e te le raccontiamo sempre. Dai, facci commuovere. E io a sei anni non so nulla, però so che le storie della famiglia le so perché me le raccontavano tantissime. E comincio a raccontare, visto che era l'anniversario della morte di mio nonno, il modo in cui mio nonno e mia nonna si sono conosciuti e mio nonno ha conquistato mia nonna. Ve la racconto brevemente adesso perché è bella. Mio nonno faceva il barbiere. Mio nonno era molto più giovane e lavorava in uno di quei negozi che ci sono nei posti di mare come qua, dove essendoci pochi negozi non ti puoi permettere di vendere una cosa. Quindi vendeva piatti, bicchieri, canotti, medicine, tutto, animali, quello che c'era, tutto. E quindi era molto facile per mio nonno, avendo tutto, andare e chiedere ogni giorno una cosa diversa. Tanto c'era tutto. Un giorno chiede piatti, un giorno un bicchiere e mio nonno era innamorata abbastanza di quest'uomo, mio nonno era del tutto innamorato di questa ragazza e piano piano si era fatto come si chiamano il covo, cioè si era creata una situazione. Un giorno arriva e dice senta signorina mi servirebbe qualcosa ma anche purtroppo le dovrei chiedere un favore personale, un parere, un gusto femminile. Prego mi dica, mi servirebbe della carta da lettera e una busta per imbustarla. Ah certo abbiamo questi cinque e le mette davanti questi cinque diversi tipi. E lui dice sì però mi servirebbe un parere suo, secondo lei qual è la più bella, qual è quella che dovrei prendere? E lei lo guarda e dice beh dipende dalla situazione, se è una lettera di lavoro, se è una lettera ad affari, se è una lettera per un parente o purtroppo un lutto, una condoglianza. No no è un motivo molto lieto, devo scrivere una lettera d'amore alla mia fidanzata. E la mia nonna si arrabbia tantissimo, stringe il legno, me lo raccontava lei, stringe il legno di questo mobile che li separava del banco, guarda fa scelgo io? Sì sì grazie. E lei mi dice io ho scelto la carta più tremenda, quella che avevo da una vita, con delle macchie sopra c'era un fiorellino così pieno di muffa che sembrava marcio, anche il fiorellino tutta zuppa che veniva male e mi dice perfetta per quella zoccola che avrebbe ricevuto la lettera del mio nonno. Questa qui, mio nonno la guarda, fa quella lì, sì, sicura signorina perché me l'ha chiesto a me e questa è perfetta. Ah benissimo, quant'è? Questo, perfetto, grazie, arrivederci. Lei rimane così, gli occhi piantati al legno del mobile, nel banco, lui rimane così immobile, lei senza guardarlo fa serve altro? E lui dice certo signorina che mi serve altro, mi serve il suo indirizzo, se no come gliela scrivo questa lettera? Ora, quando noi cresciamo, la grande bugia che ci dicono è che queste sono storie, queste sono sciocchezze, no? Si fa una risata, una cosa, queste qui sono le cose più importanti della vita, le storie sono le cose più importanti che ci sono, molto di più dell'economia, molto di più della medicina, molto di più della scienza, perché la scienza la medicina mi aiutano a farmi stare meglio se mi sento male, ma senza quella storia lì di mio nonno che intorta mia nonna e se la sposa e fanno nascere mia mamma che mi fa nascere me, io non sarei qui a raccontarvi questa cosa. Le storie sono fondamentali, la storia di come mio nonno Dino dall'altra parte è scappato dal campo di concentramento e è ritornato a casa che si è sempre rifiutato di raccontarci e non sapremo mai e è morto con quella e io gli ho detto nonno ma non me la racconti nemmeno a me e lui mi ha detto ringrazia il Signore che non te la racconto. Quella storia lì che io non saprò mai è la storia per la quale io sono qui e ognuno di voi se se l'ha fatta raccontare c'è una storia dei suoi nonni, dei suoi babbi per la quale è qui oggi ed è vivo ed esiste e è nato. Noi siamo figli delle storie. Tante storie mi hanno raccontato loro nel villaggio Mancini fino a sei anni, io ero convinto che quella fosse la vita normale, che ogni bambino siccome avevo sei anni e questi undici erano scapoli non potevano avere nipoti e quindi quando sono nato io dall'unico che si era sposato che ha fatto mia mamma che ha fatto un figlio solo, voi pensate una famiglia di quegli anni lì, dodici fratelli, quanti nipoti possono avere? 50, 60 perché dodici fratelli fanno 30, 40 figli, 60 nipoti, io sono nato io e non ho avuto nulla di realità fra l'altro, il che è inquietante, una famiglia così mi ha lasciato dei debiti al bar mio zio Aldo, basta, la casa dove vive in realtà me l'hanno lasciata, non è poco e quindi quando sono nato hanno detto sia chiaro questo qui è il nipote di tutti, noi siamo i nonni suoi e io sono arrivato a sei anni per pensando che fosse normale per un bambino avere dodici nonni da parte di mamma e vivere con loro, non avevo compleanni, asili, perché loro si contendevano a me, io c'era un cartello attaccato a un platano che diceva lunedì Fabio con lo zio Aldo, martedì Fabio con lo zio Arno, giovedì, c'era un programma, mancava solo il giorno libero da spendere come volevo, arriviamo al primo giorno degli elementari, è la scuola dell'obbligo, ci devo andare e per me è stato il giorno più brutto della mia vita, innanzitutto avevo avuto un'infanzia molto selvaggia, lì dovevi stare zitto, stare al banco, chiedere il permesso per andare a fare la pipì, che per me è una storia ancora assurda ora, perché se non mi dà il permesso che faccio, la faccio sul banco, vabbè, e la maestra ci dice, va bene ognuno di voi si alzi e ci dica come si chiama, così si presenta la classe, nome e cognome, nome dei vostri genitori, nome dei vostri nonni, su, quando tocca a me e faccio, io mi chiamo Fabio, cognome genovesi, mia mamma si chiama Rita, mio babbo si chiama Giorgio e i miei nonni si chiamano e parto, fra l'altro, scusate se ti vago, i miei nonni si chiamavano tutti con una lettera, con il nome che cominciava per A, perché il mio bisnonno e la mia bisnonna si chiamavano Arturo e Archilda, ci sono anche delle foto, Arturo era fisicamente uguale identico a me, Archilda era alta così, hanno fatto 12 figli, quindi era possibile, però guardarli non sembra, e siccome si chiamavano tutti e due con la A, hanno deciso che i figli dovevano chiamarsi tutti con la A, però 12 figli maschi tutti con la A, i nomi buoni sono finiti subito, Alberto, Antonio, Alessandro, siamo finiti con Atos, Aramis, Arno, un omaggio al fiume della nostra regione e il più giovane di tutti era il mio vero nonno e la mia bisnonna per forza voleva chiamarlo Rolando, non si sa perché, il mio bisnonno diceva ma è l'ultimo chiamiamolo con la A, no, Rolando, no, un nome con la A, Rolando, no, il nome con la A, dopo non so perché questa insistenza, credo che Rolando fosse il nome del vero padre e non c'è altra spiegazione, dopo nove mesi mio nonno, giuro, l'hanno chiamato A, Rolando, io ritengo che sia la definizione del genio, cioè cos'è che è geniale secondo me? Ciò che è semplicissimo e nessuno c'era mai arrivato, la ruota, io sono un appassionato della storia della ruota, la ruota è arrivata nella storia dell'umanità molto tardi, a guardarla oggi dici mi sembra impossibile che non ce l'avessero per un periodo, la ruota è arrivata tardissimo, gli indiani d'America non ce l'avevano, non l'avevano inventata, gliel'abbiamo portata noi, l'abbiamo anche uccisi tutti, però gliel'abbiamo portata noi, i carri, i cavalli non ce l'avevano nulla, la ruota non c'era, la ruota è geniale, perché uno dice ascolta ma te porti i pesi, prova un po' portarli così, ah geniale, la birra non è geniale, lavorava molto di moda la birra artigianale, mi hanno spiegato come si fa, è un procedimento lunghissimo e complicatissimo e noiosissimo, buona la birra ma non è geniale, è complicato, a Rolando è geniale perché mette d'accordo entrambi, una coppia moderna avrebbe litigato per nove mesi fino a decidere o Rolando o Arsdrubale e per tutta la vita uno dei due genitori avrebbe chiamato il figlio con un nome che gli ricordava per sempre il sopruso ricevuto in quel momento, a Rolando faceva felice tutti, tranne mio nonno, però ci si è abituato poi con la vita, comunque ho divagato, scusate l'età, mi chiamo Fabio Genovese, mio papà si chiama e i miei nonni si chiamano Atos, Aramis, Arno, a Rolando, Alfredo, Antonio e la maestra fa scusa quanti nonni hai? Faccio dodici da parte di mamma e lei mi dice chi sono? Glielo spiego e mi dice questi sono i tuoi pro zii, al massimo li puoi chiamare zii, a me mi muore il mondo, a sei anni dirti che quelli non sono i tuoi nonni, io esco barcollante dalla scuola, c'è la mia mamma che mi aspetta e mi dice com'è andata a scuola? Dico, fra l'altro altra tristezza, io dico guarda mamma malissimo, però è meglio averla fatta che doverla fare e archiviamo questa esperienza, la scuola è fatta, finita, basta, perché non avevo capito che era il primo giorno di scuola, come se fosse la scuola, come il dentista, e la mia mamma, maestra di diplomazia, mi fa ci sarebbe anche domani, due giorni, va bene, e in quel modo li sono arrivata al liceo, mi ci ha portato giorno per giorno, però va bene, comunque io arrivo inebetito a casa e c'erano tutti i miei nonni che mi aspettavano all'inizio di villaggio Mancini, tutti con le sigarette, con questa voce, tutti con questa voce così, mi guardano e mi fanno com'è andata a scuola? E io dico, nonni, da oggi vi posso chiamare zii? E vedo la morte negli occhi di questi signori, delusissimi, che guardano la mia mamma e gli fanno, te l'avevamo detto, non ce lo dovevi mandare a scuola. Comunque, in realtà in quei giorni scoprono anche un'altra cosa, grazie alla signora Teresa del negozio di alimentari, io ancora oggi vado a fare la spesa dalla Teresa, che è un negozietto alimentare, io non ci va dai supermercati, non ci sono mai andato in vita mia, ci sono un sacco di rivoluzionari in Italia, che si indignano per tutto, sono sempre pronti a dire io questo, quell'altro, però comprano i libri su Amazon e vanno a fare la spesa alla Coppa, all'Esse Lunga e queste cose qua. Io non sono un rivoluzionario ma compro le cose elettroniche dalla Teresa, le cose alimentari dalla Teresa e le cose elettriche dalla Evelina, gli vado a dire, Evelina me lo prendi un frullatore, ma dove te lo piglio? Guarda su internet, me lo ordini qui e io lo compro da lei, per me la rivoluzione è quella lì. Vado alla Teresa e la Teresa, io ci sono nato, quando ero appena nato mia mamma mi portava lì e lei sulla bilancia per pesare prosciutti mi pesava se avevo preso peso. Vado alla Teresa e dico che vado alla Teresa, ma la Teresa è morta nell'86, è di suo figlio Massimo il negozio, ma si chiama la Teresa. Il mio conto lo pago una volta al mese e il conto è a nome di Aldo, che è il mio zio, è morto nell'81 e ogni volta che pago a fine mese la battuta di Massimo a me è sempre la solita, faccio pago il conto e lui mi fa meno male perché Aldo anche questo mese non è venuto a pagare. Io dico sempre la solita battuta e questo guardate che è molto rassicurato, in questa società dove succede sempre di tutto sapere che sono le solite battute, a me mi piace. Comunque, sto divagando. La Teresa, la mia mamma, arriva terrorizzata perché il mio zio Aldo aveva fatto una cosa molto strana e la Teresa fa, Rita, non ti ci fissare, tanto lo sai che così è la maledizione della famiglia. Io sento questa cosa e dico che maledizione? La mia mamma, no nulla, non hai sentito bene, ho detto un'altra cosa. No no, ho sentito maledizione, non è niente, ma che insisto, insisto finché lei non me lo dice. Mi dice guarda non è niente, è una maledizione del paese che si dice che la nostra famiglia, i maschi, se arrivano a 40 anni e non si sono sposati diventano sempre più strani fino a impazzire, però è una scemenza. E io ci penso e tutto torna perché i miei zii erano tutti pazzi, l'unico normale era il mio vero nonno a Rolando che era l'unico che si era sposato, ma quando dico pazzi non dico pazzi, io non so perché, la cosa inquietante, se te a una persona gli vuoi fare un complimento non gli devi dire che è intelligente, che è simpatico, che è bello, gli devi dire che è pazzo. Se te dici che sei una persona un po' pazza, me lo dicono tutti, grazie, grazie. Quelli sono le persone più banali del mondo, così banali e terrorizzate dalla propria banalità che sognano la pazzia. I pazzi veri sono come i miei zii che se gli dicevi che sei pazzo ti dicono non è vero, il dottore l'ultima volta ha detto di no e scappano. I romanzi dovrebbero essere il massimo della stranezza e della follia. Nel mio romanzo dove racconto queste storie ho dovuto togliere uno dei miei zii perché era troppo incredibile, che nella verità c'era, lì non c'è nel libro, perché il mio editor dopo ti dice Fabio ma è troppo, faccio ma è vero lo so ma è troppo e ho tolto il mio zio Alfredo. Il mio zio Alfredo era chiamato in paese Tex perché viveva nel mito di Tex e si vestiva identico a Tex. E lui mi ricordo il primo giorno del liceo mi accompagna a scuola e voi immaginatevi il primo giorno del liceo la professoressa di italiano, che è una persona meravigliosa che mi ha salvato la vita, che mi riceve portato per mano a 14 anni da un uomo che si affianca a lei con camperos, jeans dentro i camperos, camicia a scacchi, gilet di pelle con stella autocostruita con scritto sheriff e cappello texano. Si avvicina a lei e fa lei la professoressa di mio nipote? Si, in gamba e se ne va con gli speroni che fanno clic clac clic clac. La professoressa mi guarda, mi fa tuo zio? Si e lei mi dice giuro per te avrò un occhio di riguardo. Grazie. Comunque da quel giorno io vivo nel terrore di diventare pazzo come loro, nel terrore totale. L'unica mia consolazione era, ma devo arrivare a 40 anni senza sposarti, entro i 40 mi sarò sposato. Vabbè, comunque, ti sto divagando. In realtà questo terrore va avanti sempre, però mi passa col tempo, perché io erano persone strane, erano persone che hanno vissuto in maniera problematica, erano persone che non sempre erano a piede libero, erano persone con difficoltà, ma io per conoscere l'infelicità, per conoscere la vera tristezza, per conoscere la depressione, ho dovuto avere amici fuori e uscire dal villaggio, perché lì di persone tristi non ce n'era. Erano persone che facevano quello che gli piaceva, drammaticamente anche a volte, però felici. E una delle cose più classiche è stata facendo questo lavoro strano che mi sono ritrovato a fare. Quanto qualche collega scrittore, per esempio, un amico vince un premio importante, io gli telefono e gli dico, oh, hai vinto, bravo, complimenti, sono contento per te. Sì, però, come mi ha fatto notare mio padre, l'altro giorno, quando l'ha vinto lui, lo stesso premio negli anni 70 era a tutt'altro livello e adesso è tutto decaduto. Ah, vabbè, sì, però complimenti. Complimenti, sì, però quando mia madre ha scritto quel saggio universitario ad oggi non battuto. Io, il giorno che sono andato in prima media, sono diventato il riferimento di tutta la mia famiglia, perché sono arrivato là dove nessuno era mai arrivato, alle medie. E la più studiosa era stata mia madre, che aveva fatto l'esame di quinta elementare e poi ha detto, basta così, vorrei strafare. Il giorno che io vado alle medie divento del villaggio Mancini il riferimento culturale, politico, medico. Tutto mi veniva chiesto e quando finalmente la televisione è tornata al villaggio Mancini, una sera si guardava il telegiornale e si cena, mio zio Atos fa casino, intervistano Gheddafi. Gheddafi parla in arabo, c'è la traduzione, ma mio zio fa casino, finito fa cadetto Gheddafi. Io faccio, zio, non lo so, ha parlato in arabo, io non lo parlo. Ah, non parliamo arabo e facciamo le medie, come quasi a supporre che io in realtà le medie non le facessi. E vedo la mia mamma che fa Atos, però è in prima media, l'arabo un po' presto, ma vedo una delusione negli occhi della mia mamma che mi fa un cuore piccino e mi dispiace da morire. Volta dopo intervistano Gorbachev che parla in russo, casino, non si sente. Che ha detto Gorbachev? Ah, io ho detto, ha detto che le feste dell'unità come si fanno noi in Toscana non le sa fa nessuno. Grande compagno Gorbachev, prossimo anno ospite nostro. Scusate, sto divagando, però io quando avevo sei anni loro mi portavano, io ho vissuto così, dalle mie parti funzionava così, tutti i maschi erano molto comunisti, tutte le donne molto cristiane e cattoliche. Io che ero piccolo e quindi ancora indefinito e potevo essere libero, in realtà ero doppio schiavo perché passavo i pomeriggi in chiesa a strappare i petali delle rose per scrivere Viva Maria al passaggio del Mese Mariano e la sera lavoravo alla festa dell'unità allo stand Vodka e Salsicce dove le salsicce erano salsicce e la vodka era grappa fabbricata illegalmente dai miei zii. E accanto a me che servivo si esibivano cinque ragazzi col poncio e il sombrero, i baffi finti che suonavano musica sudamericana con il nome di, ve lo giuro, finti i limani. Finti i limani. Comunque vabbè, questo per dire. Però il giorno che sono andato alle medie ero il loro riferimento. Quindi il giorno che da Mondadori mi chiamano e mi dicono Fabio vai allo strega. E io dico lo voglio di al mio babbo. Telefono, ero a Milano, telefono a casa. Telefono, faccio babbo, vado allo strega. E il mio babbo mi dà la risposta più bella, più vera, più sana, più giusta che ti possono dare quando dai una notizia così. E cioè, e che è? Che ti rimette subito al mondo, ti fa subito capire le cose vere. E io dico, babbo, strega, Benevento, ah, ah, bravo, porta a casa una bottiglia. Liquore strega, no? Liquore strega. Infatti la sera della finale, se voi vedete la diretta, c'è l'intervista a tutti, così. E io in un angolino che parlo con un uomo, è il signor Alberti, il produttore del liquore strega, gli sto dicendo, senti, mi dovete dare una bottiglia, la pago. Se non vado a casa con una bottiglia è come se non fossi venuto. Comunque, vabbè, la sera prima della finale c'è la premiazione dello strega giovani. La premiazione dello strega giovani si tiene in Parlamento. Io mai e poi mai avrei pensato che sarei andato in Parlamento. entro e in uno stato di confusione, perché in Parlamento è obbligatorio portare la giacca. Mi spiegano che la cravatta non più, ma la giacca è obbligatoria per entrare in Parlamento. Io chiedo perché e mi dicono per motivi di decoro e di morale. Scusate il populismo, ma la fetina penale non importa, la giacca sì. Io dico, vabbè, e comincia fra me e Zero Calcare, il disegnatore Zero Calcare, che era anche lui al premio, uno scambio furioso di mail, perché noi non abbiamo giacche. E lui mi scrive, alla UPM a Roma ci sono giacche a 50 euro, se vuoi te la prendo. Faccio notte, ringrazio, il marito di mia cugina è un elegante, c'è una giacca, me la impresta. E ci presentiamo in giacca e c'è una foto che sono riuscito a togliere da internet di me e di lui all'ingresso in giacca, perché la giacca da uomo, che io odio, perché, scusate, divago, chiedetelo a chiunque, dov'è che quando fa freddo, te la metti perché è freddo, dov'è che devi coprirti soprattutto? Qui. La giacca tutta con queste spalle e poi qui aperte. È un'assurdità, no? Però la giacca da uomo sente subito quando un uomo non se l'è mai messa e si vendica. E si vede l'effetto addosso a noi della giacca, è come uomini addosso a una medusa, morta, che scivola, sciancati, così si entra in confusione e ognuno di noi ha una persona della sua casa editrice che lo accompagna. Si entra e c'è un metal detector, ovviamente ormai c'è il metal detector per entrare a scuola, figuriamoci se non in Parlamento. Ognuno di noi era con una persona, molte di queste persone erano donne e per non far suonare l'allarme, con i braccialetti che hanno una cosa così, passano col braccio alzato per non passare col metal detector col braccio. Io intanto sono in stato di confusione, vedo sto palazzo, le vedo che entrano così e entro anch'io così. E mi fermo uno di questi corazzieri, chi sono? Mi fa scusi in che senso? Faccio in che senso cosa scusi? Perché entra così? Faccio entrare di tutti così non posso entrare io, perché la mia riflessione era metti che ho una pistola, se faccio così la copro, faccio vedere che sono... e la ragazza di Mondatori che era con me mi fa Fabio è il braccialetto, abbiamo alzato il braccio per il braccialetto, dico ma io i braccialetti non ce l'ho? Appunto abbassalo. E io dico c'è di buono che peggio di così non potrà andare. Entro e mi siedo, mi siedo e vedo sul palco un pianoforte a coda. Io odio la musica classica e credo che mia mamma mi abbia picchiato forte un giorno e c'era della musica classica in sottofondo, non c'è altra spiegazione. Io appena sento una nota di musica classica mi viene la tristezza e mi viene da piangere. Vedo un pianoforte a coda, faccio uno più uno e vedo la prima signora accanto a me, la prendo per un braccio e dico oh no qualcuno suona la musica classica, che palle! Lei mi guarda e fa è mia figlia, ma è molto brava. dico no ma sicuramente. C'è di buono che non può andare peggio di così. Il vincitore cominciano dall'ultimo fino al primo, vinco io. Vado sul palco e mi premia una signora. Io dire che non seguo la politica, ve lo so che a voi interessa la politica, quindi vi chiedo scusa, a me meno. E quindi dire che non la seguo è poco, ma darò quello che vi ora capirete. Questa signora che mi premia, io penso sia una persona dello strega e mi stringe la mano e c'era Edoardo Nesi che è un amico caro, all'epoca era parlamentare e scrittore e me la presenta e io per essere gentile dico grazie con chi ho il piacere e loro mi fanno l'onorevole Boldrini. Il nome non mi dice assolutamente nulla e dico e tento una battuta sdrammatizzante e dico scusi signora ma io conosco quelli di Forte Marmi che lavorano l'anagrafe, i dipendenti a Roma non li conosco. È finita così e nonostante tutto mi danno il premio. Vado in albergo e la notte non riuscivo a dormire perché ripensavo a tutte queste serie di figuracce orribili e dicevo ma è possibile che non riesci mai a essere serio, ufficiale, come dovresti? È la maledizione, è la maledizione della famiglia e che è sempre qui. Però io penso una cosa, se la maledizione è questa, viva la maledizione. Perché grazie però guardate che aiuta tantissimo, aiuta tantissimo. La mia mamma mi ha raccontato un sacco di idiozie, di bugie e io non finirò mai di ringraziarla. Dicevo mamma ma questa cosa non è vera. Te l'ho detta quando eri piccolo. Faccio ma non è vera, ma ci penserà il mondo a metterti davanti a tante tristezze, finché posso mettermi di mezzo io ti faccio sta bene. E una volta trovo i regali di Natale, ho creduto a Babbo Natale fino quasi alla maturità, trovo i regali di Natale già nell'armadio a inizio dicembre. La mamma arriva e fa che fai? Faccio mamma ci sono i regali di Natale, faccio uno più uno e dico siete voi, Babbo Natale non esiste. E lei mi fa no, esiste, esiste tantissimo, anzi stai zitto perché ti sente e ci rimane male. Perché allora i regali sono qui? E lei mi fa, ci pensa un attimo e fa, perché Babbo Natale è uno solo, è anziano, ci pensi la vigilia di Natale fare il giro del mondo con tutti i regali addosso e portarli in tutte le case? Lui si porta avanti, a inizio dicembre fa il giro, viene in Italia, viene in Svizzera e li mette nascosti in casa. Così alla vigilia leggero arriva con le renne, li prende e li mette lì. Io la guardo poco convinto e lei mi fa, è svedese, è uno che si organizza. Faccio una della Lapponia e lei mi guarda e fa, è uguale. E ci ho creduto per un anno ancora. Il segreto della vita è quella cosa lì. Quando ci sono delle persone che mi scrivono mail o mi chiedono dal vivo a me consigli amorosi, chiederle a me, se già lo chiede a me ti dico sei già oltre l'ultima spiaggia, è già finito. Però quando mi chiedono io non so se sono più innamorato, ancora innamorato della mia compagna, mio compagno. Lì la so. Dico guarda, è semplice. Hai voglia, gli racconti delle storie? Hai voglia di raccontargli cose? No. Allora lasciatevi, è finita. Perché l'amore è la voglia di raccontare cose. Ma non è solo l'amore di coppia, è anche l'amore per i figli, l'amore per chi ti pare. Quando ami una persona, te vai a giro, sei senza di lei o di lui, guardi una cosa e fai come gli sarebbe piaciuta questa cosa, gliela devo raccontare. Faccio una foto e gliela mando. Dico come gli sarebbe piaciuta. Ora vai al lavoro e dici guarda c'è un nuovo che lavora accanto a me, è uguale a Mussolini, è identico fisicamente. Lei ti manda un messaggio, com'è oggi Mussolini? Guarda c'è un paio di scarpe incredibili, faccio una foto nascosta e te le mando. Ah che bello. Quello è l'amore. L'amore è quella cosa lì. Se te torni a casa, che hai fatto oggi? Ho lavorato. Te? Ho lavorato. Ti odio. Va bene. Guardiamoci delle serie, le serie televisive, le hanno inventate per non fare l'amore. Perché le coppie che non si amano più si mettono lì, guardano venti puntate della stessa roba e vanno avanti così, con quella scusa lì. Guarda che grande lei che ha fatto il bagno. Invece quando ti ami hai voglia di raccontarti cose, perché la vita sarà sempre noiosa. Anche il lavoro più incredibile, anche la spia, anche l'acrobata alla fine diventa noioso se non lo racconti bene. Raccontare è un'arte. C'è un mio amico, un signor anziano, che è tornato a Terranova Bracciolini, dove è andato a un posto che si chiama in Toscana, Terranova Bracciolini. C'è stato un pomeriggio, è ritornato, mi fa ho visto il mondo e mi racconta cose incredibili. Un mio amico per lavoro gira il mondo è stato un anno in Giappone. È tornato e gli ho detto com'è il Giappone, ma ha risposto si mangia male. Dico guarda si mangia male anche a casa mia, ti invito, evita di viaggiare. Non è la vita, è come la racconti, c'è poco da fare. Una domanda classica dei giornalisti è, chi sono i tuoi maestri? Quando scrivi. Fra l'altro vi chiedo che ore sono, perché non vi voglio tenere troppo, non ho l'orologio. E' 40, mi fate cenno a 55 e si va a casa. La mia mamma mi dice sempre, ricordati che devono andare a mangiare. Allora, quando mi chiedono chi sono i tuoi maestri, io rispondo Marquez, Twain, tutti quelli che vuoi John Fante, ma anche Luciano Rossi. E in genere molti giornalisti fanno, eh, dimenticato ma grande, troppo scomodo, troppo scomodo per rimanere. Luciano Rossi era il babbo del mio zio Ettore e faceva lo spazzino a Ponte d'Era. Ed era il più grande narratore che io abbia mai conosciuto. Aveva tutte le doti che servono per la narrazione. Bugiardo compulsivo, tanto tempo libero e un pochino di arteriosclerosi galoppante fin da giovane che lo faceva andare sempre sul bordo e divagare meravigliosamente. Lui è stato campione di box dei pesi massimi italiani. È stato unico sopravvissuto al bombardamento di Monte Cassino. Tutto questo senza salire su un ring e senza andare in guerra. Quand aveva una moglie che si chiamava Maria, che era sempre accanto a lui, aveva un'unica funzione. Accanto a lui e quando lui esagerava, tipo quella volta con Cassius Clay per il mondiale dei massimi a New York, e ti dici, ma scusa, non eri campione italiano? No, no, mondiale. Mi sembrava italiano. No, no, mondiale. Maria, diglielo te. E la Maria... E lui, raccontatore incredibile, per dirvi, vi dico soltanto una cosa grandiosa sua. Un giorno, quando ci fu l'alluvione a Firenze, l'alluvione a Firenze, negli anni, se vi ricordate, c'è stata anche a Pontedera, solo che a Firenze ha alluvionato gli uffizi. A Pontedera la Piaggio ha fatto meno danno. E quindi non è passata la storia, ma è stata veramente un'alluvione. Le case popolari di Pontedera c'era davanti nel piazzale due metri d'acqua, non si poteva passare. Immaginatevi una costruzione sovietica, un misto fra l'Unione Sovietica e Scampia. Tutto chiuso su questo piazzale, che era un lago, non si riusciva a passare. E cominciava a mancare acqua corrente, cibo, latte per i bambini, pannolini. Dall'altra parte si sapeva che c'erano, ma non si vedevano, i militari e gli americani di Camp Derby, che è una base fra Pisa e Livorno di Marines. E non si sa come andare. Luciano, che era un grande raccontatore, ma anche un uomo pratico, prende due latte di benzina giganti che aveva misteriosamente in cantina, le lega con delle corde, costruisce una specie di rudimentale zattera e con un bastone parte. E da tutto il vicinato affacciato alle finestre lo guardano, fanno, Luciano, ma che fai? Ti fai male? E intanto per Luciano va e sparisce. Sparisce dieci, venti, trenta minuti. Lo vedono tornare con questo stesso mezzo e dietro una roba galleggiante con dentro latte, acqua, pannolini, pane. Cosa vuoi? Parte un applauso da tutti. Cosa vuoi di più nella vita? Cioè hai tutte le persone che vivono con te che ti vedono e ti applaudono. Bambini, donne. Uno prende l'applauso, dice prendete e mangiatene tutti, fate questo in memoria di me. E sai Gesù? Il raccontatore geniale no. Si ferma un attimo nel mezzo del nulla, dell'acqua e urla. Non mi volevano dare nulla. Mi hanno detto vai, tornate a quelli delle case popolari, quei poveracci, a noi non ce ne frega nulla. Ma un marin militare americano nero di colore mi ha riconosciuto. gli avevo salvato la vita a Monte Cassino. Mi ha fatto vedere la foto di un bambino di colore che era il figlio e mi ha detto questo bambino l'ho chiamato come te, Lucien, Luciano in americano. Prendi questa roba e portala alle persone a cui vuoi bene te. Luciano sta per morire. Io vado a trovarlo e lì ragiona e non ragiona. Mi fa, che non c'era un filo di voce. Mi accosto all'orecchio e lui mi dice a te lascio il mio epistolario. Io pensavo non sapesse scrivere. Epistolario. Guardo la Maria e la Maria mi fa. Muore e me lo dai in una scatoletta di latta tipo quelle della Plasmon. Lo prendo e c'erano tre cose. Una era una medaglietta del Partito Comunista per la fedeltà, cento anni di tessera, quelle cose lì. E due cartoline. Questo è l'epistolario. Ma queste due cartoline sono stupende. Una è degli anni sessanta da Sanremo mandata alla moglie Maria. Bella, racconta Sanremo. Non so perché ci fosse. Perché senza di lei. Però. Ma quell'altra è la cosa più bella che io abbia mai letto nella letteratura occidentale. Non mi sbilancio perché magari in Oriente c'è qualcosa di competitivo ma non l'ho letto io. Ma in Occidente non c'è niente del genere. Sono tre righe scritte una sotto l'altra. Essenziali. Quasi un haiku. Meraviglioso. E pieno di conoscenza istintiva dei tempi, dei modi teatrali. E io ce l'ho incorniciata dalla parte del testo davanti alla scrivenia dove scrivo. C'ho la finestra davanti e questa incorniciata. Perché ogni mattina che mi metto a scrivere leggo questa cosa e mi ricordo quanto può essere magico il potere delle parole. Quanto con poche parole puoi rendere tutto meraviglioso. E ce l'ho davanti lì. Tre righe. Io vi invidio voi perché non la sapete ancora. È scritta nel 43 da un generico fronte. Generico fronte. Tre righe. Maria, virgola, a capo. Vado con le altre, virgola, a capo. Ma penso a te. Punto, Luciano. Giuro. Un'onestà intellettuale che nemmeno Pasolini ha mai raggiunto. E una conoscenza dei tempi drammatici. Maria, ti prendo l'attenzione. Vado con le altre, colpo di scena, ma risoluzione finale. Penso a te. Questo è il modo per vivere bene, secondo me. Non c'è altro dubbio. È mangiare sano, se vuoi fare sport. Ma questo è il massimo. È raccontarti storie. È volersi raccontare delle storie. Una volta, questo me l'ha insegnato un signore. A me la vita mi piace tantissimo. Perché non è vero che le cose importanti te le spiegano grandi professori o persone che conosci da una vita o saggi in cima alle montagne. La vita te la cambiano. Le persone che incontri per un secondo. Devi sempre stare attento. Quando uno sta sempre con quel telefonino maledetto lì, ti perdi tutte le lezioni del mondo incredibili che ci sono. Questa lezione me l'ha data un signore, per caso, sugli appennini, mentre da forte rimarmi andavo in Puglia. Ero in ritardo bestiale per un festival a Lecce. Ero terrorizzato, sono in ritardo, sono un deficiente. Mi telefonano a Nadia, che è qua di Mondatori, mi dice Fabio, dove sei? Dico, Nadia, sono quasi lì. Ero sugli appennini. Sono in ritardo. Vado. Ero in ritardo bestiale. Dico, sei un deficiente, sei un imbecile, sei un cretino. Vedo un signore anziano nel nulla, su una strada di montagna, con uno di quei cartelli di cartone con scritto la città di destinazione, come in America si usava. Mi vede arrivare e appena mi vede me nel nulla, non passa nessuna macchina. Invece che buttarsi in mezzo alla strada, se lo nasconde e si gira. E io passo, non mi fermo. E dico, ma questo è un pazzo. A parte fai l'autostop qui. Ma poi, perché non me l'ha fatto leggere? Non che mi interessi nulla, però, perché non me l'ha fatto leggere? Non me ne frega, era un pazzo, non c'era scritto nulla, c'era scritta una frase della Bibbia. Non mi interessa, poi sono in ritardo, non mi devo fermare, non mi potrebbe fregare. Non mi devo nemmeno permettere che mi interessi, perché sono in ritardo, perché devo arrivare all'arrivo. Poi è un pazzo, lo devo sapere. Mi giro e ritorno indietro e mi affianco a lui che è ancora lì, mi vede e prende questo cartello e me lo fa vedere. E sopra c'era scritto a penna, giuro, panini rari, panini rari. Io lo guardo dalla macchina, panini rari. E lui sì. Ecco, dove? No, la domanda non è certo dove. Perché? Ancora meno perché. Come? Bravo. Nella vita l'unica domanda importante è sempre e solo come? Ciao. E se n'è andato. Nei boschi. Giuro, io non l'ho più rivisto. Era un'allucinazione. Era un pazzo, era scappato dal manicomio. Non l'ho più rivisto, non so chi sia, però aveva ragione. Nella vita l'unica cosa importante è come, come la racconti, come la vedi. La vita sarà sempre noiosa, saranno sempre i motivi per essere tristi, saranno sempre le delusioni, però come te la racconti e come la vivi fa la differenza. E sta a te. Io una volta, poi non vi annoio più, chiudo, vado a un festival in Umbria. Un festival molto diverso da questo. Tremendo. In cui ogni autore era accompagnato da una persona. E la persona che mi affibbiano a me è un uomo che mi prende in macchina. E dopo io dico, posso accendere la radio? Perché c'è il Giro d'Italia. E lui mi guarda e fa, eh, Giro d'Italia, mi ricordo Pantani. E dico, sì. E lui mi fa, drogato. Al che io dico, scusi, mi può scendere da là? A me non mi devi toccare, tutto il resto va bene. Dico, mi può scendere dall'auto. Mi fa, perché? Vado a piedi. Ma guardi che sono otto chilometri. Pochi. Sono pochi. Scendo e vado a piedi. La sera, dopo aver fatto tutto questo festival, molto diverso da questo, deprimente, mi dice, ognuno va a cena con il suo accompagnatore. E io so che starò a cena con questa persona tutto il tempo. Lui, io lo odio. Lui mi odia a me. Mi guarda e mi fa, andiamo a cena. Ma lo vedi che non c'ha voglia nemmeno lui. Ci si siede a tavola. Io davanti a lui. Lui davanti a me. E io sento la voce dei miei nonni. Sento la stranezza. Sento quel signore che mi diceva l'importante è solo come. E io dico, ragazzi, ma si muore presto. La vita è brevissima. È un attimo. Faccio guardi. Lei ce l'ha una famiglia qui? Lei è di qui? Sì. Sì. Se l'ha una famiglia? Sì. C'ha dei figli? Sì. Sarebbe contento di mangiare a casa? Sì. Faccio allora vado a casa perché a me lei mi sta tanto antipatico. Così come io a lei le sto antipatico. No, lei non mi sta antipatico. Lo confessi. Lei mi odia. Lui fa, ora, odiare? No. Però antipatico mi sta. Faccio, oh. E allora se lei va a casa e io mangio da solo. Non siamo tutti e due contenti. E lui mi guarda e mi fa. Sicuro che posso? Non lo dice a nessuno. Giuro. Dico, io sono contento. Si va via. Si alza e mi fa. Mi sta già più simpatico. Cioè anche lei. E se n'è andato. La nostra vita è fatta al 90%. Così come siamo fatti di 80% di acqua, no? Cos'è quella cosa? La nostra vita è fatta al 90% di cose che facciamo perché dobbiamo per gli altri o perché poi diciamo, tanto poi dopo faccio quello che mi interessa a me. E dici di sì a tutto e a tutti e di no lo dici solo. All'unica persona con cui hai la confidenza sufficiente per dire di no te stesso. Quindi arrivi all'età di tirare le cuoie che dice ora mi sfogo e faccio tutto e muori. Quella sera lì io ho fatto una cena meravigliosa da solo. Quel signore lì è andato a casa, avrà baciato la figlia, avrà baciato la famiglia per non stare con questo antipatico che ero io. E nella vita l'importante è il come, sempre di raccontare. Quando avete un figlio e questo figlio viene da voi e vi dice mamma perché ci sono le rondini e quest'inverno non c'erano. E voi gli dite sono lì perché sono lì, tieni l'iPad e gioca e non rompere. Devo farmi un selfie mentre mi faccio vedere che sono a camogli a chi invece non è a camogli. Un mio amico ha una pizzeria, mi ha detto da un po' di tempo nessuno mi chiede più la margherita perché la margherita viene male in foto. Lo giuro. E mi ha detto mi ordinano delle pizzeri che poi toglio con tutto perché ti dici stasera pizza? Fanno sì, commenti sotto sì, ma margherita. Vabbè. Quindi quando voi dite a vostro figlio è lì, sono le rondini, falla finita che mi devo fare dei selfie, voi lo uccidete. Voi gli dovete raccontare come. Gli dovete raccontare che le rondini quando sentono il freddo migrano verso il Nord Africa e vanno sempre nello stesso posto e ci vanno perché le rondini hanno nella testa, nel cervello una bussola naturale che gli dice dov'è il Nord Africa e ci vanno in volo. Ci stanno e a un certo punto sentono che è il momento di tornare e tornano, ma non è che tornano. La stessa rondine che il bimbo ha visto l'anno prima, lì è la stessa che torna coi figli. È la stessa. Te glielo devi dire perché gli devi far capire che culo che ha avuto a nascere in un mondo così meraviglioso e ce l'hai messo al mondo te, quindi ti puoi anche vantare. Se gli dici tieni l'iPad, devono venire gli assistenti sociali e te lo devono togliere come a quelli che li picchiano ai bambini perché lo stai picchiando. Nella vita l'importante è sempre come. La nostra vita sarà sempre noiosa, strana, piena di noie, piena di fastidi. Se ci raccontiamo le storie, ce le raccontiamo bene, staremmo un pochino meglio tutti. Vi auguro una vita piena di storie, molto più interessanti di quelle che vi ho raccontato io. e mi raccomando, se incontrate un signore con un cartello in mano lungo la strada, fermatevi. Ciao, grazie. Grazie di cuore. Ciao, buonasera.